Ciao, ciao a tutti, bentornati o benvenuti sul canale. Buon pomeriggio a tutti, spero stiate bene. Io tutto a posto, il mio fondo schiena ne risente ancora, faccio fatica ad alzarmi dalle sedi, cioè quando sono seduta faccio fatica ad alzarmi e poi quando sono in piedi a un certo punto mi devo sedere, ma vabbè so che è una cosa per cui ci vuole un po' di tempo e vabbè. Oggi video spesa, svuota la spesa tigotà, era da un po' che non andavo al tigotà, non ho comprato tantissime cose, mi servivano dei detersivi ammorbidenti e due o tre cose per l'ufficio e ho preso la palla al balzo. Poi passando tra gli scaffali e questo è colpa di due mie amiche, una di Masha che ha il canale Masha e Beauty, poi ve lo lascio sotto, e la mia amica Giussi che è Giuseppina Flamini, famosissima designer di calze e non solo, e anche lei ha un canale YouTube che poi vi lascerò sotto, ma chi è amante della maglia sicuramente la conosce, ma se per caso non la conoscesse ancora, vi consiglio di andare a visitare il suo canale. Ho comprato dei prodottini che loro avevano consigliato, la Giussi me l'ha consigliato nelle nostre chiacchierate, mentre Masha l'ha consigliato in uno dei suoi ultimi video di uno svuota la spesa tigotà e io non ho potuto esimermi dal provare questi prodotti, ma iniziamo prima dalle cose meno interessanti che sono comunque interessanti, che sono quelle della casa. Allora, per l'ufficio ho acquistato queste candele che ho già testato, sono buonissime, sono veramente molto molto profumate e siccome in ufficio abbiamo bisogno di relax, perché in queste ultime giornate davvero la tensione si fa sentire, ho pensato a una candela alla lavanda che armonizza i sensi e quindi ci fa star bene, si sente tantissimo il profumo, queste candele erano in offerta a, adesso ve lo dico perché mi sono tenuta allo scontrino, a 5,99 e sono, 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 quanto prodotto è, papapero, papapà, non lo vedo, non lo vedo, non lo so, 43 ore comunque di accensione e quanto sia il prodotto ragazze, non lo so, comunque 43 ore sono tante, effettivamente durano tanto perché è già la seconda o la terza che utilizziamo in ufficio di questo e l'ho anche utilizzata a casa e sono veramente buonissime e questa è una a 5,89 euro e poi visto che poi arriverà anche la primavera, o meglio è già arrivata perché mi vedete con una mallettina di cotone, oggi fuori ci sono 17 gradi, si sta benissimo anche se alla mattina fa ancora freddo, ho preso questa alla magnolia che ha un profumo meraviglioso, mamma mia che buone che sono, sempre a 5,99 euro e queste le porterò in ufficio, sempre per l'ufficio, ho preso queste ricariche di Jardin de Fleur, bouquet fiorito, ricarica per diffusore automatico e lavanda e camomilla, sempre lavanda ovviamente, lavanda e camomilla poi c'è un mix dove ci addormenteremo praticamente in bagno, perché questi diffusori li abbiamo in bagno, perché non c'erano più a disposizione i diffusori della GLED per i diffusori quelli alti a spruzzo, ho chiesto alla commessa e mi ha assicurato che sono assolutamente compatibili con quello spruzzatore e ben venga perché questi costano 1,99 euro, esattamente, 1,99 euro, no, sì 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 sì, aspettate che circola con ferma, sì giusto 1,99 euro, perfetto, questi due e quindi li proveremo e poi vi saprò dire se effettivamente sono validi come quelli della GLED, sempre per l'ufficio dovremmo pulire i vetri o quantomeno la porta che divide dal corridoio la nostra, poi i vetri fuori ci penserà la signora che è addetta alle nostre pulizie e siccome io sono innamorata della marca Genio, questa per me è una novità, ho voluto provare questo Genio Plus Active Deo multiuso con ammoniaca, vetri e cristalli, pulisce in profondità tutte le superfici lucide, non lascia alone, azione idro repellente, 900 ml, le 750 pagati, 150 in omaggio e vi saprò dire perché generalmente io compravo il quasar vetri però mi sono imbattuta appunto nel mio marchio preferito del 2022 e quindi ho detto dai lo provo e così poi saprò dire come mi sono trovata e questo Genio Plus, Genio Plus, Genio Plus vetri 1 euro e 79. Continuiamo, adesso ho comprato quattro cosine invece per la pulizia e il lavaggio dei capi. Allora ho voluto prendere un ACVC gel disincrostante verde perché sto finendo quello classico che non ricordo come si chiami che comunque ha la stessa forma ma è quello famosissimo adesso come adesso non mi viene in mente e mi sono trovata benissimo e poi lo vedrete nei prodotti finiti casa ma ho pensato così di provare qualcosa di nuovo e questo che è l'ACVC costava 1,49 euro poi sempre per la casa ho preso il mio Genio Plus anticalcare in mousse che è quello che avete visto e che per me è il numero uno dei detergenti anticalcare lo trovate lo ripeto anche qua perché l'altra volta qualcuno me l'ha chiesto poi l'ho scritto nei commenti al Tigotà o da Acqua e Sapone non so se c'è anche nei supermercati tipo Esselunga perché io non vado più a fare la spesa all'Esselunga vado alla Conad, alla Conad sicuramente non c'è poi la mia Conad è piccolina però probabilmente magari in alcuni supermercati un po' più grandi di quelli che ci sono qui a Lecco lo potete trovare comunque da Tigotà e da Acqua e Sapone sono sicura perché un'ora ho comprato al Tigotà secondo l'ho visto anche da Acqua e Sapone e poi ne ho preso un altro al profumo di lavanda qui la lavanda in questo video la fa da padrona e ho guardato non mi sembra che ci sia nessuna differenza nella composizione se non il profumo di lavanda la cosa che ho notato è che in questo flacone c'è scritto proprio nella descrizione cioè la prima cosa che c'è scritta nella descrizione è che toglie il calcare in maniera profonda qui c'è scritto che toglie il calcare ma in fondo è la descrizione non so se hanno cambiato il pack e l'etichetta o se questo è diciamo un po' meno potente ma anche di questo vi farò poi una recensione accurata dopo che l'avrò provato e quindi questi due vediamo cosa li ho pagati allora dove sono allora 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 che saponetta genio vetri genio 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 anticalcare mousse 1,99 ragazzi non me l'hanno fatto pagare ah è genio bagno mousse 1,99 non me l'hanno fatto pagare tutte e due comunque 1,99 e questi vi durano tanto perché avete visto quando li ho comprati la volta scorsa è vero che io ne avevo 3 distribuiti nei 3 bagni però durano poi ho preso ho finito il detersivo per i capi delicati di solito vado su quelli che non hanno marca nel senso quelli che costano di meno questa volta ho voluto provare il soflan alla vaniglia adesso se tra un po' questo freddo diminuirà comincerò a lavare mmm che buono delicato non solo di vaniglia però c'è anche qualche altro fiore buonissimo sono 15 lavaggi ma io ne faccio molto di più perché ne metto veramente poco di detersivo per i capi delicati che può essere la seta ho solo due camicette di seta ma per la maggiore lo uso per i maglioni di lana perché io tutta la lana la lavo in lavatrice è così la mia lavatrice è bravissima sa fare il suo dovere soflan detergente lavatrice 1,88 poi ho finito non nel senso che ho in scorta ancora due coccolino che avevo comprato di quelli che mi sto trovando benissimo profumo intenso ma per chi mi conosce sa che per me la scorta finisce quando ne ho due in scorta e quindi sono andata a ricomprarne altri due perché da tempi in memoria io ho subito un trauma da piccolina perché mia mamma non faceva mai le scorte e più di una volta mi sono ritrovata con i capelli mezzi lavati e mezzi sporchi perché era finito lo shampoo e quindi lei doveva andare di corsa al negozio di alimentare che avevamo sotto casa e ad andare a comprarlo quindi io da quando mi sono sposata le scorte le ho ma sono innumerevoli e quindi ho detto ne ho due in scorta uno lo sto quasi finendo ne prendo altri due c'erano in offerta i coccolino XXL quelli dalle profumazioni buonissime ma ho voluto cambiare e ho preso due ammorbidenti di spuma di champagne fresca rugiada e carezza d'argan eccoli qua non li ho mai provati non so come siano vediamo il profumo tanto questi vanno in utilizzo praticamente mmm che buono mamma mia carezza d'argan è fantastico e fresca rugiada sentiamo anche qua buonissimo mamma buono 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 perfetto poi vi saprò dire anche il mio parere su questi due ammorbidenti ultimo prodotto per la casa ho visto che hanno messo uno stand intero di questa marca Mayers Clean Day linea aromatherapy sconfigge delicatamente lo sporco con oli essenziali ed estratti naturali il mix limone e verbena infonde in tutta la casa un profumo leggero e rinfrescante le note di limone donano il tocco esuberante degli agrumi la verbena che è uno dei miei fiori preferiti e una delle mie profumazioni preferite fiorisce all'inizio dell'estate e conferisce la leggerezza di un giardino fiorito sapone mani con olio di oliva e aloe vera è vegano non testato sugli animali con oli essenziali mi sembrava interessante come brand ho visto che ci sono anche i detersivi per il bucato i detersivi per i piatti e dei bagnoschiuma è proprio una colonna intera con dentro 4 o 5 profumazioni di ogni prodotto e li vorrei provare questo lo volevo mettere sul lavandino una volta che ho terminato quello che ho comprato di balia e adesso vediamo 6 chicche ma proprio ho comprato veramente pochissimo ah e questo adesso vi dico cosa l'ho pagato vediamo vediamo maia il sapone 2,50 2,50 per 370 ml non è pochissimo non è tantissimo ma se profuma e ci dona quell'aroma che ci fa star bene visto che poi durano tanto i profumi delle mani sul mio lavandino può andar bene allora veniamo a cosa sono stata istigata a comprare dalla mia amica Giussi che mi ha detto che si sta trovando benissimo struccante occhi delicato ipoallergenico di Garnier della linea Skin Active pelli normale o miste all'estratto di uva come vi ho detto ultimamente sto utilizzando insieme al burro struccante anche degli struccanti per soli occhi o anche per il viso se non faccio in tempo a struccarmi con il burro faccio un po' meno fatica perché io mi metto il mio struccante sui due dischetti me li spatascio sugli occhi lascio agire 5-6 secondi poi sfreggo e viene via tutto con l'acqua micellare di Garnier alle rose quella delicata mi trovo benissimo quella che ho appena finito lo vedete nei prodotti finiti strucca benissimo vediamo se anche questo è all'altezza del suo nome giusi se non fosse così è colpa tua e questo di Garnier l'ho pagato 2,29 euro e insomma quasi il costo di un'acqua micellare però vabbè è solo per gli occhi quindi altro prodottino che ho visto da Masha di Masha Beauty ma lei aveva l'altra versione è questo primer di Bella Oggi Bella Oggi vi ho già parlato è una marca che io trovo al Tigotà è un brand italiano con il quale mi sto trovando da anni benissimo perché è da anni che utilizzo il loro primer in crema utilizzo il fondotita compatto utilizzo il correttore utilizzo delle palette per occhi utilizzo il bronzer e dei blush mi trovo bene è una marca di tutto rispetto e ha dei prezzi veramente rispettosi del nostro portafoglio Masha aveva comprato un primer che era in crema e io ho provato ma mi sembrava leggermente sberlucicoso non che non mi piacciano i primer sberlucicosi però non sono ancora entrata nel mood estivo dove magari potrei mettere qualcosa di più sberlucicante e ho voluto provare questo adesso ve lo apro perché e poi soprattutto per l'estate mi sembra veramente molto molto leggero e ha un tocco molto molto asciutto e questo è appunto si vabbè acqua boost effetto zero peso ed è veramente leggerissimo adesso ve lo faccio vedere perché questo sono proprio curiosa ce la posso fare ok ha vedete una consistenza in gel anche abbastanza corposa perché non scende molto 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 fresco e poi proprio giù l'ho provato e si asciuga nel giro nel giro di poco non rimane appiccicoso e ha un tono asciutto non ha profumo e lo testerò e vedrò come funziona adesso voi lo vedete ancora un attimino umido perché l'ho appena spalmato non è appiccicoso si sta asciugando ed è secondo me bellissimo poi proveremo anche come funziona per il trucco questo l'ho pagato l'ho pagato bella oggi primer gel 6,90 e anche l'altro nel tubetto costava 6,90 sono degli articoli nuovi perché io non li ho mai visti lo stand di bella oggi al mio tigota è abbastanza ricco e abbastanza in ordine e non dico che quasi tutte le volte che ci passo compro qualcosina ma quasi io questi non li avevo mai visti infatti di questa referenza ne erano rimasti solo due e della referenza di quello in tubo ne erano rimasti tre erano praticamente quasi tutti vuoti ecco perfetto asciutto bellissimo dà anche una sorta di luminosità che però non è sberluccicosa comunque lo vedremo in azione in un get ready with me altro prodotto che ha menzionato sempre Masha è che sono molto curiosa l'antitaccheggio mi dà un fastidio micidiale è questo burro struccante nutriente di Delidea sapete che io adoro i burri struccante sono per la mia pelle una vera coccola e anche se no in scorta due ho voluto comprarlo questo non lo apro perché poi appunto parte il pao ma era in offerta anche questo è sul volantino volevo prendere il volantino ma mi sono dimenticata era in offerta e l'ho pagato adesso ve lo dico Delidea Delidea 9,90 euro per 150 ml di prodotto ma vi dura vi dura tanto perché di burri struccanti sapete che bisogna proprio usarne poco vedremo se questo prodotto è all'altezza di tutti gli altri prodotti di Delidea che sto usando e con i quali mi sto trovando bellissimo ultimo prodotto che era scontato Biolise Nature Green Selection olio corpo antiossidante alla melagrana ho quasi tutta la linea di questi prodotti e pian piano li sto utilizzando mi piacciono tantissimo tantissimo Biolise Nature è un marchio che amo e questo era scontato a 4,80 per 300 ml e sapete che gli oli corpo sono una delle mie diciamo modalità di idratazione corpo preferite perché non faccio fatica a spalmarmi si asciugano abbastanza velocemente se poi li applicate sulla pelle umida dopo la doccia e quindi veramente velocità in tutti i termini ultime tre cosine che ho comprato sono queste saponette di kesir terre lontane rosa damascena sapone aromatico per una saponetta da 100 grammi all'orchidea nera mamma mia che buoni profumi e alla lavanda ho bisogno di rilassarmi si capisce ho proprio bisogno di rilassarmi e queste saponette le ho pagate 1,29 non erano scontate ebbene conclude qua la mia spesa del tigotà vi farò sapere come mi trovo con le nuove referenze per me che ho acquistato per detersione lavaggio casa morbidente e per tutte le altre novità che ho comprato grazie della compagnia vi auguro un buon pomeriggio e ci vediamo al prossimo video ciao ciao ciao